Continuiamo ora lungo la strada che ci porterà alla conclusione di questo capitolo degli elementi basilari, diciamo mattoncini Lego, di TypeScript, dove siamo andati a vedere un po' tutte le tipologie di dato e come esse si comportano in TypeScript, entrando nell'argomento delle tuple. Le tuple o la tuple andrà ad aprire il primo di tanti argomenti che fanno parte solo unicamente dell'ecosistema di TypeScript. All'inizio del corso abbiamo detto che TypeScript non aggiunge niente a JavaScript, quindi non ci dà nessuna feature in più e sarà così anche con le tuple e tutti i prossimi argomenti successivi in TypeScript. Quello che si intende con riservato solo unicamente all'ecosistema di TypeScript è dato semplicemente dal fatto che si andranno a utilizzare alcune tipologie di dati, in questo caso con le tuple, parliamo degli array, in un modo che in JavaScript non è permesso, per andare a ottenere un controllo maggiore su come essi vengono appunto scritti. Che cosa sono le tuple? Le tuple per chi magari arriva da un linguaggio come Python, altro non sono che degli array che hanno una struttura ben definita al loro interno, in cui gli elementi hanno un certo ordine e spesso rappresentano un'associazione tra chiave e valore, un pochino quello che può essere una mappa, ma andiamo a vederle nel dettaglio e andiamo soprattutto a vedere a che cosa esse servono. Andiamo più giù rispetto a questo solito magic trick dell'export e andiamo a definire il primo caso che potrebbe causarci un problema che le tuple possono risolvere. Mettiamo caso che io appunto avessi quello che è un classico user, in cui la mia API mi risponde sempre che il primo elemento è l'ID e il secondo è appunto la sua mail, quindi mail.mail.mail.mail e andiamo ad ottenere questo tipo di struttura. E io questo come lo vado a descrivere? Beh, lo vado a descrivere e viene anzi descritto automaticamente, inferito nel nostro TypeScript come appunto un array di stringhe o numeri. Questo però in cosa si traduce? A che errore ci può portare? Beh, io in questo caso so benissimo che la mia ipotetica API mi risponde con l'ID come primo elemento di questo array e come secondo una stringa che comunque rappresenta quella che è la mail. Bene, se per caso comunque io andassi a scrivere 112 anche solo in questa maniera nel mio array, come vedete non ottengo praticamente nessun errore. Il mio array rimane stabile, nonostante la mia API non sia più corretta e tutto questo spaccherebbe completamente la mia applicazione. Certo, non è la miglior struttura possibile per andare a fare questo, ma alcune volte può capitare di dover utilizzare questa soluzione. Qual è appunto il rimedio a questa problematica? È quello di andare a, diciamo che ce la copiamo e andiamo a commentare la riga che non ci serve più, andiamo a dire che il nostro array sarà strutturato in questa maniera, ovvero number e string. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la struttura sarà fissa. Se io andassi appunto a inserire qua una stringa, come vedete ottengo un primo errore che ci va a dire che deve essere di tipo number perché ci aspetta in posizione 1 proprio che esso sia un number. Questo ci garantisce di avere un pochino più di stabilità. Quello che può succedere è che possiamo andare a dire banalmente che type user sarà uguale al nostro number string che abbiamo in questo punto e possiamo andare a dire che lui è uno user e ci permetterà di andarlo a riutilizzare all'interno del nostro prodotto. Quali sono i limiti di questa soluzione? Perché come sempre abbiamo dei limiti. Diciamo che la tuple nasce per darci la garanzia che il nostro array abbia sempre almeno una lunghezza di 2 e che nelle posizioni nelle quali ho bisogno di accedere, quindi in questo caso la posizione 0 e la posizione 1, troverò un numero e una stringa. Perché vi dico questo? Perché questo sistema si rompe banalmente andando a dire che user.push, ci vado a pushare quello che è il valore di 1. Vedete che non mi viene impedito e ora come tutti quanti sappiamo oggettivamente user adesso ha 3 oggetti. Però per quanto riguarda la mia API, quello che mi serve e quello a cui dovrò accedere, effettivamente questo sì, questa struttura non è più veritiera, ma tecnicamente dovrebbe causarmi un problema perché ho tipizzato fino a questo punto e quindi mi aspetto di utilizzare solo questi due elementi. Quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione potrebbe essere che user sia di tipo read-only. Questo tecnicamente dovrebbe aiutarci a migliorare questa soluzione. Questa cosa vuol dire che user può essere solo letto, infatti push non esiste sul tipo di user. E questa è un po' la miglior soluzione, una delle tante soluzioni con cui possiamo andare a risolvere questo ipotetico problema. Però come vi ho detto, qualora appunto andassi a definire una struttura di tipo tuple, io quello di cui ho bisogno oggettivamente è di garantirmi che il mio array abbia una lunghezza di 2 è che nelle posizioni con le quali io devo andare poi a lavorare, troverò il tipo di dato di cui ho bisogno. Quindi anche se poi venisse aggiunto, dovrei essere safe. Il problema quando nasce anche con questa idea è che se io appunto non avessi il read-only in questo caso, posso anche andare a fare .user.anshift e andare a inserire un valore in testa all'array. Questo spaccherebbe veramente tutto, quindi il read-only in questo caso ci va a salvare veramente la vita.